Il gatto e le galline. Un gatto selvatico aveva preso di mira le galline di un pollaio, chiedendosi come fare ad arrivare a loro. E saputo di un'epidemia che le aveva colpite, non ci pensò due volte e si raccò al pollaio travestito da medico, con una borsa piena di strumenti e di farmaci. Appena vi fu giunto disse, buongiorno care galline, come vi sentite? Permettetevi di visitarvi, aprite dunque quell'uscio. Risposero allora le galline a una voce, te ne ringraziamo moltissimo, ma se te ne vai ci sentiremo assai meglio.